Ecco in esclusiva l'abitazione di via Roma a Rivergaro che ospiterà i profughi. La casa su due livelli è composta da una cucina, un soggiorno, due camere da letto e due bagni. A questo si aggiunge un locale lavanderia e una tavernetta oltre a un ampio giardino esterno. Nonostante la casa risalga agli anni 80, all'interno le finiture sono pregevoli tra pavimenti in parchè, cucine attrezzate con forno e televisore, bagni finemente piastrellati con vasche, un ampio salone con tavoli e divani. Una vecchia casa di proprietà che da tempo era rimasta sfitta fino a quando, secondo le ultime notizie, non è stata notata da una cooperativa che ha partecipato al bando della prefettura per ospitare i profughi e la chiese in affitto al proprietario rivergarese.